Il problema che hanno gli operatori oggi a cominciare dei pubblici esercizi, ma non solo, perché anche dei negozi normali, è l'assembramento. Oggi come oggi abbiamo notato che una gran parte della cittadinanza percepisce ormai come è passato l'argomento Covid. Il problema degli operatori è quello che molte volte non sanno esattamente come comportarsi. Abbiamo le persone che sostano al di fuori dei locali, che effettivamente sono su suolo pubblico e non credo che il singolo operatore possa fare qualcosa come disperdere le persone o comunque imporre loro una certa forma di distanziamento sociale. Noi ci conformiamo, quello che hanno richiesto anche le altre associazioni, nel richiedere una sorta di protocollo di comportamento dell'operatore per poter far fronte a questo problema. D'altronde non è giusto che per colpa della cittadinanza, di alcuni clienti che non si preoccupano di tenere le mascherine, di stare troppo vicini, eccetera, eccetera, paghi poi il pubblico esercizio, il negozio. Le multe non sono di poca cosa, di poco conto, è già una multa di 400 euro, addirittura la chiusura del locale, insomma non è una cosa che passa inosservata.